Sostanze tossiche. Nei ravioli di una notissima azienda italiana. Ritirati 35. Lotti di agnolotti di borragine. Ma prima di dirti qual è l'azienda in questione, ti chiedo di iscriverti al canale e di attivare la campanella delle notifiche. Grazie! E Atali ha annunciato il ritiro di 35 lotti di agnolotti di borragine a Marchio Plin a seguito della scoperta di sostanze tossiche. Il pastificio Valle Belbo, con sede a Santo Stefano Belbo in provincia di Cuneo, ha prodotto gli agnolotti incriminati. Il problema è emerso dopo la segnalazione di un possibile rischio microbiologico da parte del fornitore di borragine. La sostanza tossica in questione è rappresentata da alcaloidi pirrolizidinici, prodotti naturali dalle piante per difendersi da parassiti ed erbivori, considerati tossici per gili esseri umani, soprattutto a livello epatico. E Atali ha tempestivamente avviato il processo di ritiro degli agnolotti dai negozi e supermercati del Piemonte, invitando i consumatori a non consumare il prodotto interessato. Nel comunicato pubblicato sul sito web si legge Se possedete ancora il prodotto, siete pregati di restituirlo e saremo lieti di cambiarlo o rimborsarvi. Se lo avete consumato, non allarmatevi, riferite il fatto al vostro medico curante. Gli agnolotti erano in vendita in confezioni da 300 grammi e da un chilogrammo, con date di scadenza comprese tra il 30 aprile 2023 e il 5 gennaio 2024. La situazione evidenzia l'importanza della sicurezza alimentare e della prontezza nel gestire potenziali rischi per la salute dei consumatori.